Vabbè, ciao a tutti, sono Marco88 Ciao, sono Mazzetess, cioè, non ciao Ehi, la giurma, io sono Mazzetess Siamo qui in questo episodio per Halloween Eh già, magari faremo anche un altro speciale, non ci sa mai Io sto cercando di scappare con questo schifoso mezzo Ma no, devo affrontare gli zombie come gli altri, che dici? Dove se... ma io sono... Ah, qua c'è un mezzo agricolo, no, è un jeep Ma perché non posso prendere... ma no, sono tutte robe che non posso prendere Io posso prendere la torta Ho una bottiglia di birra Sei armato fino ai denti Io sono armato con una mazza Questa è una casa, scusi, io voglio provare ad entrare in questa casa Ma io ho dell'esplosivo, cos'è questo? Una lattina d'olio? Io ho fregato... Ma come ho in starting? Oddio Oh, ciao, eccoti qua, ciao caro, ho fregato il fucile del nonno Che nonno? Io non ho mai avuto un nonno, sono nato generato autonomamente Un nonno a caso? Non ho detto di chi Ma perché non mi prende le assi? Oh Anche io l'ho presa l'asse Ma con l'asse ti difendi o no? Forse... mi... proiettili, proiettili, figo, 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 figo Ma c'è una bella casetta qua, eh? Un rustico, così, decorato Eh sì Una bandiera degli Stati Uniti, un fucile che non posso prendere Io l'ho preso Oh, ne ho preso un'altra Ma io non so che classe sono adesso, perché me la cambia a random Ah, c'è una mezza da baseball qua, la prendo tanto per... Una pistola... scusa, equipo la pistola Oh, yeah! Dove sei? Ah, ma dove sei? Sono da te Ho sentito qualcuno che spara? Andiamo a cercarli Andiamo a cercare chi spara! Mi spariamo lì, no Si, doveva essere tipo un gioco di paura, ma alla fin fine... Oddio Togliti... togliti Eh, ok, ho finito le munizioni Ecco Ma dai! Ma non è possibile! Ma quando inizio a registrare? Prima son durato mille ore Oh, farò caso Non riuscivo a switchare arma, caribbio, cioè era quella che aveva due proiettili Dove sei, Marco? Voglio vederti Mi hanno circondato tre zombie Io col fucile li sparavo in testa Oh no! Il vecchietto zombie mi ha ucciso Sono patetico Ah, sei morto anche tu? Si, mi ha ucciso Clementina Oddio Sì C'è una vestita da cani Ma questo urilaslog Qua La 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 Ah, si stanno venendo a fottere le mie armi forse, no? No Sta salendo questa uril Questo, questa urilas Quella urinaia lì Urinaia? Ma non riesco... Non riesco mica a capire Stanno dal bagno, dici Si, sta andando a pisciare Cos'è che... La bambiera dell'America l'hai vista, scusa? Si, l'ho vista Ma non riesco a capire perché sparandogli in testa non gli ha fatto niente io Ma io gli ho appunto, ho scaricato due colpi di... Oddio, mi sta venendo a prendere... No, mi passa attraverso LOL Ma tu sei morto! Come fa a venire... Appunto, però ero con una visuale dopo guarda il video quando lo carico Eh, sembrava che mi stesse... stesse venendo a prendere me Ciao Devi vedere che c'è un'orgia zombesca qua Dove sei? È inutile, non posso vederti tanto Nelle scale, c'è Ah, dove c'è Urilaslo Che credo sia l'unico rimasto Si E sto facendo una carneficina Managgia, ma è brava stu... Non come noi che siamo... Dera S Perché, se non lo sai... La nemesi degli zombie sono le scale Perché scappa la tipa? Perché ha paura delle scale, come gli zombie No, sono nelle fondamente della casa C'è una cantina! Sapevi tu? Hai andato in cantina? No Ma noi voglio... Dove... Voglio... Urilaslo, ecco, adesso siamo sulla visuale di Urilaslo Ha tirato giù la testa uno zombie Scappa Oh Perché scappa, scusa? Perché... Non sono amichevoli Che brutti Ma è brava questo Urilaslo, scusa Sì, ha capito che ho... Ha capito che ha... Ha... No Ha un fucile Stai caricando? Sì, io avevo un fucile e lì l'ho regalato a lei Sì Mi ha preso il coso dell'esplosivo ma l'aveva sotto Guarda che... C'è... Questo significa che io uso le armi a cazzo di cane, guarda che... Ma c'è... Ma davvero, guarda che grande sta qua Sì, è perché io non ho ancora capito bene come usare le armi Oh Sono... Sono di uno dentro? Sì Cerchiamo un'arma, cazzo Martello, ascia Lasciami e spira Oddio, io sto pigliando a pugni una tipa, ma effettivamente forse è meglio se trovo un'arma, eh Che dici? Stai... Stai... Accoltellando Uri l'aslo? No Ah, ti hai visto? No, cioè ti hai visto sulla mappa, ma... Allora, io mi... Queste sono che cosa? Delle bende? Equipaggio bene Ma come si usa questa caspita di asse? È con il destro per difendersi, ma sei delle armi piccole Ma io non ho trovato nessun'arma, scusa Io... Io ho trovato una caspita di... Oh, c'è Ed Hai trovato una pistola? Vado in bagno, magari c'è qualcosa in bagno, non c'è niente in bagno Ah no, c'è un coltello Cos'è sta roba, Marco, eh? Cosa? Siamo calmi, ci calmiamo, queste esplosioni No, sono io, io ho la cetta C'è Gary Robinson, che si è buttato dalla finestra Ah no, perché c'è un tetto qua Ci sono delle tette? Wow No, no, eh, magari Beh, ci sono, ma sono zombesche Oh no, c'è il nonno felice che mi sta inseguendo No, non è nonno felice Qualcosa del genere, però Questa prova a rientrare, ma non può rientrare Allora si butta giù Uh Lo butto giù io Posso buttarlo giù io? Noo Oh, che palle L'arma senza colpi Ti prendo a martellare Sii, l'ho fatto cadere giù, such lol Mi ha preso Mi ha abbracciato nonno felice LoL Gli ho fatto esplodere il cervello Mentre gli altri due ricaricavano l'arma Tipo Ciao Gary Robinson Ah, ma sei tu Marco88 Ciao Non mi sono mai divertito così tanto in un horror in vita mia Perché non è horror in science Che dai Sono solo degli zombie amichevoli Oddio, posso ricaricare? No, non ho proiettili probabilmente Marco, non farti uccidere così, scusa Ma mi ha abbracciato Non mi ha morso Mi ha abbracciato Hai visto? Vabbè, ma non devi cadere così in tentazione Allora, prima che ti dice Eh, te la do Eh, la tentazione è forte Come fai a droppare un'arma? Già, non mi ricordo più Con l'inventario, col tasto 1 E fai col sinistro Ah, ok, quindi io Oh, yeah Ho il fucile, cazzo Ah, ok No, col destro, non è col sinistro Io ho il fucile Ah, anch'io ho un fucile Sì, ma questo Col mirino super mega potenza Gary Robinson, scusa Togliti dai piedi, eh Togliti dalle palle Usiamo l'inglesismo giusto Ah, però ricarica ogni colpo Che barba Io non so neanche... Ma cosa ha fatto Sploder qua, scusa? Ti ho detto Quando fai Sploder una tannica di benzina Fa una cosa del genere Ma questa volta Mi sa che è esploso qualcosa di diverso Ma sei tu Ops Credevo fosse uno zombie Avevo già paura Avevo già coltellato Si Sono pieno di sangue lo stesso Come se fosse uno zombie Qua c'è un coltello da... Si è vero Ho trovato... Volevo fare un episodio di tension oggi Invece qua c'è da morire da ridere Infatti... Prima vi siete persi una scena epica proprio Ma siamo... Gli unici personaggi che sono rimasti in casa No, no Sorridiii L'hai tirato giù tu quella No, ma non ne sto prendendo uno, critico No, no Non ho più proiettili Oddio Ce n'è uno addosso tipo Ma dove è andato? Oh c'è qualcuno che sta portando in giro la cassa Che cassa? La nostra amica Dove sei andato Marco? Marco non lasciarmi da solo 200 di... Perché c'è del fuoco qua? Oh Perché l'ha attaccata la nostra amica Ha una fiamme No, sto volendo bruciato in mezzo alle fiamme E ti sta prendendo... A... A... Ma sei stupida Si perché vuole... Dirti che sei si insulso Ho finito i proiettili Oh... Stanno bussando No, no, no Ma dai Basta! Lasciami in pace Guarda che qua c'è il medikit C'è il medikit Guarda qua chi c'è Dov'è? Qua! Questa cassa! È insulso! È insulso Ma che cosa succede? Scusa? Devi cliccare con E! Non dentro! Stai scendendo il numero ma non so cosa vuol dire Perché stai guarendo Ah ok duo te ne ho premuto però Non si possono prendere gli appunti no? Ma davvero? Ti curi? Oddio prima sono morto tipo mille volte non sapendo questa cosa Sagge lol Quella è l'arma che ho droppato io perché non ho munizione Io che colore ho? Non mi vedo la vita Ciao sei arancione Io quanto... che colore ho? Verde Vuol dire che mi curo un altro po' Basta te ne hai premuto comunque non devi premere mille volte come ho fatto io Ok basta non voglio fregare Troppo a vita la nostra amica Gary Oh Gary Ah ma perché è di tutti scusa? A me dava 300 piena Sì adesso sta a 90 per me E a me stava tipo 120 tipo Allora ma cosa caspita dobbiamo fare? Dov'è la nostra? Non lo so non c'è nessuno qua forse deve arrivare un'altra wave Può forse... Ma si può piacciare le assi qua? Ci sono le assi Ah l'ho rotta No ma forse è meglio non romperla qua Noo infatti Saliamo di sopra scuse? C'erano delle scale per salire no? Dove c'è la stanza del... Io sto esplorando qua Cosa c'è qua? Niente Ah c'è il cibo qua Ah oddio guarda che ci sono degli zombie qua fuori Eh Mi devi dare una mano? Oh quello si è ustionato da morire Qua c'è una pistoletta Ma vieni a darmi una mano piuttosto scusa Dove sei? Qua alla porta No quello si è Gary Robinson Gary Robinson Ma perchè è andato fuoco alla stufa? Io me ne vado scusa Dove? Dove sei? Marco 88 Io sono lì Io sto con l'aslo Io sto con l'aslo Vi prego Ma l'aslo perchè mi attivi il lanciafiamme quando sto passando? Pezzente Per bruciarti i peli Per bruciarti i peli Ceretta istantanea Io non c'ho cazzo di armi Ma perchè mi picchia? Perchè... Perchè sarà il suo preferito? Comunque no credo che sia di tutti la vita perchè... Tipo io ne ho preso un'altra bova perchè mi aveva buttato in mezzo al fuoco e lei mi sta picchiando Ops... Ho dato fuoco a l'aslo L'hai bruciato il peli del culo Ho dato fuoco a l'aslo Ho i suoi peli L'aslo Ho picchiato una cosa così a casa e ho preso fuoco tutto qua L'aslo mi spiace ti ha bruciato tutti i peli delle gambe E non solo delle gambe Eh succede Eh capita Secondo me questi... Che sono gli altri? Io sono chiuso in cantina con uno di l'aslo che qua mi vuole uccidere Sì Sei sicuro che ti vuole uccidere? Sì mi picchia A meno che non voglia fare delle cose tipo un po' strane Può essere Una cassaforte? Numeri caso! Sì Tu sai il codice di questa cassaforte? Non lo so Prova com'è il pin 0 0 0 0 0 0 Ma puoi piazzare le assi In che modo? Non lo so quella l'ha piazzata per chiudere la porta Ho messo a posto quella che avevo tolto io Avevo rotto io Cioè siamo proprio tipo i nabbi del mondo qua Con sto gioco C'è Balthazar Cazzo 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 No, il coltello di Chef Tony non ha funzionato No, sei morto? Sì, sono quello coso che si sta rialzando per rifiderti No Cosa stai dicendo? Sono due bugati qua, guarda Ma perché mi spingi, stupido Gary Robinson? No, è GG che mi spingeva, scusa, io esco dal retro No, è chiuso, lascia stare Non si rompe stasse Ma perché devi romperla? Non si uscì, è Vai dagli zombie, tu hai amici Ma come fai a piazzare le assi? Ma come fai a piazzare le assi, scusa? Ah, qua c'è Rupert Io intanto vado a dare un'occhiata se fuori c'è qualcosa di veramente utile Vediamo, fuori c'è Una palla Ops Uccida, c'è LOL Rurrek stava facendo il nabbo come me Caspito Stupido, si è fatto uccidere Rupert C'è cosa ho scoperto io? Che fuori c'è un'entrata Alla cantina a cielo aperto, fuori Uccidi Rupert, oddio Mi hanno ucciso Oddio Ta 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 Ok No Sì, non ti faccio male Davvero? Questa è una notizia strepitosa, il fuoco Ma io non sto vedendo un Kaiser di niente Alive inside Ok, allora io entro dentro, scusi Dove? Ah qua c'è da mettere qua la cassa Dov'è la cassa adesso però? Ancora all'ingresso Ah ci sono delle frecce qua La smetti di spingere, è pezzente È sempre la tua amica Uri? No, è... Sì, è Uri, ma non è più donna È cambiato, ha cambiato stessa Dove vai l'ambulanza? Scusi, volevo prenderla a cassa Oh no! Sono andato proprio da sono zombie Togliti, togliti Come sei? Ah, è là l'ambulanza Oh, ma perché non mi molla? Ok, sono morto Come sei morto, scusa? Mi è partita la wave di zombie, scusa Sì Te lo posso confermare perché uno zombie mi ha appena aggredito Mi ha assaggiato Io sto correndo con una cassa di medicinale in faccia Non vedo neanche dove sto andando Io sono morto Così per simpatia Non capisco dove sono Ma si sono barricati dentro Ma no, c'ho una cassa in faccia I nostri amici si sono barricati Sì, ma si è barricati fuori Sto portando la cassa a Uri Laslo Perdonami per quello che ho fatto Uh, c'è un mitragliatore qua dentro Qua Dove c'è il cancello? C'è un mitra Apri Prova a aprire Aspetta, cosa? Ah no, sei fuori tu No, io non sono fuori Sto poggiando la cassa Dove sei? Non ti vedo Ho messo la cassa Ah ma questo è uno zombie? Loro stanno cercando di aprire il cancello Perché Al di là del cancello C'è un mitragliatore Adesso vado a cercare te Dove sei? Dove sei? Dentro una casa? No? Sì Oddio C'è uno che mi ha aggredito alle spalle Uno zombie mi ha attraversato Uh che figata Ma perché sto morendo scusa? Mi son curato Qualcuno ti starà dentando le caviglie No Muoio lo stesso Ah Eccoti qua Sai che degli zombie stanno Io mi cura e prendo danni Come sono? Rosso, arancione Verde Verde Ah c'è uno zombie che sta venendo a trovarti sai Da che parte? Verso destra Ma sto morendo Vero che sto diventando arancione? No Ecco Sta arrivando Non vedo più niente Inizio a non vedere più niente Cribbio Ma perché? Sto esaurendo la cassa qua Sei ancora verde Io vedo ancora verde Ma vedo tutto lo schermo che mi si sta oscurando Diciamo Ah sai come? Tipo le radiazioni di Antone dalla fin fine Ah c'è Rurek qua Oh qua c'è una valigetta del mistero Guarda Rurek ho messo la cassa qua Oh vieni qua Vieni qua Qua cosa vuol dire? Sei invisibile scusa Oh di nuovo Sto morendo Rurek sto morendo Sto morendo Rurek Io sono rispaonato Eh io sto morendo Marco Rurek Sto morendo Rurek Che cribbio A me ne mi piace Adesso ti salto addosso tra un attimo Rurek Non vedo niente Neanche io non vedo niente Sto trasportando qualcosa dentro la casa Che fastidioso è questa Io sto morendo Oh ma c'è ciao Ti ho portato un regalino Ma sai non ti vedo Ecco uccidimi uccidimi occio occio Ma sei un nigga adesso Con i capelloni da panchettaro Oh sono zombie Uccidimi ti prego Uccidimi Perché non mi uccidete? Ho uccidito tutti e due rossi Oh che figo sto posto Round starting E' carinissimo Però io voglio capire come Io devo trovare armi Armi 27 26 25 24 Ma basta controllo La rovescia Uh il negozio Ma hai già iniziato? No Ma si può andare a facciare A 11 secondi? No Io parto da qua Oh ma ho trovato la combinazione 97 57 71 Ma di cosa? Ma come la metti? Come le piezzo le assi di legno? Scusa Ho trovato una combinazione Ricordati 57 57 Sì 71 57 71 No 91 57 91 57 91 Eh non so di cosa è però Ah hai bisogno del barricade hammer Forse L'ho trovato nel martello Ah è quello con Con le assi insomma Oh Oh yeah Ah il 3 0 5 9 Dove sei? Oh siamo al supermercato Che lol Ok ho una pala Ho una pistola Io sto andando Guardate visto che con 3 puoi dire le cose Cioè posso dire tipo Uh 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 No Fucile da cerchino Sto seguendo gli altri Io sono da solo nel coso del supermercato qua Oh Munizioni Dove siete? Perché non vedo la mia Pistola? No no Io ho trovato uno C'è uno che sta sparando A cazzo Chi è? Io Ti sto cercando Ho una mira del cazzo Oh ma proprio del cazzo però Poi una mira Ehi non è male sta arma però comunque Dove sei? Vado alla farmacia io Sto cercando di cercare un po' di amici Aspettate che c'è uno zombie qua Lo tiro giù Io sono solissimo proprio Oh Mi stanno circondando questi bastardi Scappare di qua Scappare di qua Oh martello e asse Oh Mi hanno Mi hanno intrappolato sti schifosi Dove posso cercare di venire in tuo aiuto Non conosco la mappa Ma ci posso provare Corri 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 Ma dove sei? Sparra di merda sto Vabbè Non so dove sei Io sono nella lavanderia Si Non ho trovato L'uscita L'uscita con mille zombie Eccoti Attento No ho finito i colpi Come si fa Affanbrodo Sono arrivato Ok sto migliorando un po' Ci sono gli zombie qua eh Andiamo a fare un salutino loro No Lascia stare Scappiamo Cerchiamo delle munizioni Lì non c'è un cazzo Uh c'è il nostro amico Ciao vecchio Uh Torna alla tavola calda che c'è la nostra compagnia di amiconi Dove sei? Alla tavola calda Dove è la tavola calda scusa? Electronic Market Ecco se ne stanno andando dalle tavole No Ho finito Oh I colpi critici sono strafichi Non sono io che sparo Perché ho finito i proiettili Eh anch'io ho finito i proiettili Infatti ho droppato l'arma Alexander Leo E' qua da questa parte Tipo Qua è pieno Non scappi Alexander Leo Scusa ti sto venendo incontro Ciao Alexander Leo Io sto cercando proiettili Ma non ne trovo Qua c'è la lavanderia Non ho dato questo Ah no ci sto passando C'è la TM qua Riesco a ritirare dei soldi Non credo No Ah Autoforger Dice che si scusano per l'inconveniente Diamine che inconvenienti Ah io vado nel sotterraneo C'è scritto exit Uscita zombesca sarà quella No non posso uscire Dove sei io? Non vedo più nessuno Sono all'uscita io qua Prendo l'ascensore Che dici? Dico che Non funziona No Serve l'elettricità per farla andare E' chiusa La porta Mi fa venire in mente Prima che eri chiusa nella stanza LOL ragazzi Mi siete persi una Partita in cui lui era E' spawnato in una stanza Chiusa E non poteva uscire LOL E' vero che è stato divertentissimo E' vero che è stato divertentissimo E si è dato tipo fuoco da solo A un certo punto Ah io sono qua fuori Sono uscito fuori Ci sono delle macchine Anch'io ho trovato l'uscita Però Vediamo Oh che figata però Sono il parcheggio Senti il battito cardiaco Troppo Tu 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 E' ma dopo un po' Che cori Quando sei stanco Sei tu Ecco ti Ciao Ci barricchiamo dentro C'è fuori c'è qualcosa Non vedo più i nostri compagni Secondo me se ne sono andati Ma perché non mi fai equipaggiare il martello Scusa Ah no Ma cosa c'è qua dentro Martello da barriccato Cos'è qua dentro E soprattutto dove vanno ste cose Guarda No non mi fa pizzare l'asse qua Aspetta Dove posso pizzare l'asse Voglio provare a pizzare l'asse Ma non si vede niente qua E' tutto benissimo Non vedo più un cacchio Anch'io Torniamo su va Oh proiettili 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 Non posso prenderli Perché? Oddio no Questo è un altro tizio Vai con questo affare Comunque con vite li mandi lontani sai? Quando ti aggrediscono Oh è la seconda wave Siamo sopravvissuti alla prima Oh ho ricaricato il fucile Non so Pensavo di non avere armi Tu dove sei? Io sono dove c'è la lavanderia Allora torno su Oddio Cosa c'è? Sta corre Sta correndo Oddio hai dei medikit qualcosa Sto morendo qua quasi Sto arrivando Non ho niente Neanch'io C'era una farmacia Ma non c'era niente in quella farmacia No Sono morto Erano in tre Sono corsi addosso Un computer di marca Vivo Capito? La marca è vivo Certo Vivo Ma comunque siamo di nuovo dentro Chi Dove sei tu? Oh il macete Io sono fuori al freddo Deve c'era il parcheggio No no Nel parcheggio qua Ho preso i proiettili Adesso manca solo l'arma Cosa è quello del cioccolato? Ok io devo cercarvi adesso Perché sono da solo E mi da fastidio Oh zombie zombie Ah ma è Dembus Sai che avevo paura Fossono zombie Io ho tolato gli zombie invece Scusa Dembus Ti droppo tutto tipo Oh Quanti 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 Dove sei? Sono sotto Ce ne sono tipo mille Io sono con birt qualcosa Oh c'è uno zombie lì Ne ho seccati tipo 5 sai Il mio c'è il fiatone Non riesce a tirare più colpi Vabbè il mio Si è messo male Ma perché? Caspita Il mio Sta Sembra che sta Stia avvenendo Oddio No ho preso danni Adesso muoio Aspetta Ma cosa ha il mio personaggio? Sta prendendo danni da solo Ok ho usato le pillole Per fortuna ho trovato le pillole Avevo delle pillole Secondo te sta prendendo Perché sta prendendo danno da solo? Eh perché tipo viene infettato Si vabbè Se fai questo muori Se fai altro muori Si c'è questo C'è un modo per sopravvivere? No no è uno zombie Ok ne restano 9 della wave Ah Due ce li ho qua Come si fa a usare gli oggetti? 8 Aspetta che ne tiro giù un altro qua Il mio personaggio L'ho preso alle spalle 7 Ma come si apre sto schicco di Saratinesca? Non lo so ma io sono tornato dove ero prima Cribbio Io vedo grigio No non morire Marco dai Non morire di nuovo Non lasciarmi solo Dove sei? Eh sto Cercando Medicinali Ok le pawn Dembus Ok sono con gli altri Ne rimangono 3 di queste wave Ah uno è qua Due Uno Uno No Sì wave complete L'ho ucciso io L'ultimo Grande Dove sei? Sono Al negozio alimentare E vedo grigio 57 sono di questa wave Managgia Ma se muoio La prossima wave Rispawni? Eh credo di sì Ma non ne sono sicuro Non ho capito bene Sto storie Ma perché caspita vedo grigio Ah c'è bitching body Casca Ma perché ti hanno tipo infettato Aspetta che sto con gli altri qua Simballi Bitching body Sono morto Sì Sì ma non ha senso Oddio sono tuttoro grigio Sono morto Cribbio avevo giocato bene la prima Anch'io Wave Ma guarda c'è un cazzo di arco L'hanno preso Sì Reggiare controllo della situazione Survivors ZOMC È stato È stato È 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 Adesso corrono però gli Zombie Sì Sì Lei could Corrono come dei pazzi Oddio mio Mi auguro che non aprono questa sala cinega Ma ci sono tipo 10 i zombie dietro No No 2 4 6 7 Quanti sono Sono andati qua dietro LOL appena aprono la storia cinesi Si ritrovano Il mondo intero Stra LOL Marco che dici? Interrompiamo qua Dovremo fare un sacco di tagli Eh? Andiamo Salutiamo? Votiamo per Favela Come vota per Favela? Per la mappa Se premi esca ti chiede la votazione per la mappa successiva Ah io non l'ho votata Perché sono stato l'unico a votare Dice Receive del 100% dei voti in totale Un voto Io voto per questa la mappa lavatrice Infatti adesso entrerò dentro questa lavatrice LOL Che bella mappa LOL Bon che dici? Per questo episodio è tutto? Direi proprio di sì Per questo speciale di Halloween Da Mazzottese Marco88 Penso che sia tutto Esatto Io vi saluto con queste specie di alimenti a forma di pane Sto guardando Sto cambiando la mappa Wow Io spero vi sia piaciuto Io mi sono divertito un sacco A morire insieme Esatto Morire insieme E con Marco chiuso in una stanza Per il nome Room in Hell è tutto per oggi Spero vi sia piaciuto Ricordatevi di mettere mi piace Iscrivervi ai nostri canali E Vi salutiamo qua Che è stato venendo troppo lungo il video Ciao a tutti Ciao a tutti